Due nuovi casi di contagi si registrano in Abruzzo nelle ultime 24 ore e così dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.344 casi positivi al Covid-19. 12 pazienti, meno uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, zero, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva mentre gli altri 104, meno 4 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 470 pazienti deceduti, più due rispetto a ieri, 2.758 dimessi guariti, più cinque rispetto a ieri, di cui 12 che da sintomatici con manifestazioni cliniche sono diventati asintomatici e 2.746 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 116 con una diminuzione di 5 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 120.227 test. Del totale dei casi positivi 247 sono residenti o domiciliati nella provincia dell'Aquila, più due rispetto a ieri, di cui uno non comunicato il 17 luglio. 834 in provincia di Chieti, più due rispetto a ieri, di cui uno per un riallineamento. 1600 in provincia di Pescara, meno uno rispetto a ieri per un riallineamento. 635 in provincia di Teramo, meno uno rispetto a ieri per un riallineamento. 26 fuori regione, mentre per due casi non è indicata la provenienza. Al netto dei riallineamenti, i due casi positivi di oggi sono residenti uno in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Chieti.